Devo dire che Antonio Infantino è proprio un tipo di artista totale, nel senso che si occupa di molte discipline, ha una straordinaria cultura che spazia un po' in tutti i saperi. Come lo chiami uno a questo? O lo chiami dissociato o uno benedetto da Dio. Io uso la metica, l'analisi ritmica, non faccio il gioco, è la sintesi, finalizzata a creare un'evocazione, un paesaggio sonoro. Questo è quello che a me personalmente interessa della tradizione, per rendere una cosa arcaica e farla andare nel nostro tempo. In questo Antonio Infantino è un maestro. È la vita la grande arte. Ovviamente uno poi se la gioca come può. E mi è piaciuto pure a me.